Benissimo, buongiorno a tutti, mi presento, sono Enrico Parolin, faccio parte di un team che si chiama Miglior Artist Internazionale della Decorazione, sono un decoratore qualificato della Giorgio Gryzen, quello che vogliamo oggi è una particolare realizzazione dell'effetto cemento, un effetto cemento creato, slavato, con la simulazione di un pannello da calcestruzzo da cantiere, con i vari forellini, con l'effetto slavato di un cassero disarmato, è un materiale naturale, traspirante, lavabile, il bellissimo abbinamento che ho voluto fare qui per i nostri arezzatori interior design, l'abbinamento con un lavabo in coria, con un miscelatore a cascata naturale, tutto questo contesto è stato creato appositamente ad arte per valorizzare degli ambienti di stile e di design. Con questo per oggi può bastare, vi invito a visitare il mio sito che è www.imbiachinopadova.it oppure visitare la pagina Facebook agli artisti internazionali della decorazione e vi invito a contattarmi se avete bisogno di qualsiasi consulenza per quanto riguarda la valorizzazione dei vostri ambienti. Grazie.